Ciro Lodato Traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I 281 La tutela dei più deboli è da sempre considerata dalla Chiesa parte integrante della sua missione e il vaccino è un atto di amore per se stessi e per gli altri, in particolare a vantaggio dei più deboli. Questo è il centro del messaggio di Monsignor Orazio Sorricelli, arcivescovo dell'Arcidiocesi di Amalfi, Cava dei Tirreni, in questa recrudescenza della pandemia da Covid-19, rivolto a sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e fedeli tutti. È un appello che richiama in coscienza ogni religioso o religiosa che entra in contatto per il suo servizio con i fedeli. Monsignor Sorricelli chiede a tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici dell'Arcidiocesi di intensificare ogni sforzo al fine di prevenire ogni ulteriore contagio di Covid-19. In modo particolare riafferma quello che dovrebbe essere diventata già una sana abitudine, il rispetto del distanziamento tra le persone, evitando assembramenti, l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. L'Arcivescovo inoltre ribadisce alcune indicazioni valide per l'intera Arcidiocesi e invita tutti al rispetto scrupoloso di esse. Chiunque abbia sintomi influenzali oppure si trovi in isolamento per positività è tenuto ad assenersi da ogni tipo di servizio pastorale, sia esso sacerdote, diacono, religioso o religiosa, oppure operatore pastorale in ogni ambito, al chiuso e all'aperto, per adulti e per ragazzi, per qualunque attività di catechesi, di animazione, di formazione e di ricreazione. A tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi che operano in diocesi, chiede l'Arcivescovo, in coscienza, alla luce di quanto il Santo Padre ci ha indicato, di sottoporsi alla vaccinazione, per tutelare si stessi, gli altri e in particolare i fragili. Siamo tutti consapevoli che la catechesi in presenza sia la forma migliore per la comunicazione della fede e per restare in contatto con le famiglie dei nostri ragazzi. Ma non possiamo rischiare, soprattutto nel momento in cui il contagio interessa particolarmente i più giovani. Per la visita agli anziani e agli ammalati si abbia molta cautela, valutando i singoli casi e chiedendo l'esplicito consenso dei familiari. In ogni caso è fatto assolutamente di vieto di compiere tali visite a coloro che non sono in possesso del Green Pass rafforzato. Le altre attività pastorali si continuano a svolgere soltanto se si riesce a garantire il distanziamento e il rispetto delle normative anticontaggio. Valuti il parroco caso per caso. Si è opportuno lo svolgersi di tutte quelle manifestazioni che comportano assembramenti di persone tali da non poter garantire il distanziamento. Non sono opportuni in questo momento cene, pranzi comunitari, gite e sali. Siamo dunque chiamati a rispondere per primi a Notte di Amore, per noi stessi e per le comunità che ci sono affidate. Facciamo quanto è nelle nostre possibilità perché le relazioni pastorali continuino a svolgersi salvaguardando il bene supremo della salute, specialmente dei più deboli e fragili.